Non sarebbe stata evidenziata causalità tra la dose di vaccino somministrata ed il malore che poi ha portato alla morte Valentina Bencini, la donna di 49 anni originaria di Montevarchi, trovata senza vita lo scorso venerdì mattina nella sua abitazione di San Gusmè, nel comune di Castelnuovo Berardenga. Per avere risposte certe sulle cause del decesso si dovranno comunque attendere 60 giorni. Ieri è stato infatti svolto l'esame autoptico condotto dal dottor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa, accertamento che era stato disposto dal pubblico ministero Valentina Magnini della Procura di Siena, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulle cause della morte della donna. Si vuole infatti accertare se la 49enne è deceduta per cause naturali o se ci sia una correlazione tra la scomparsa e la somministrazione del vaccino anti-covid, la prima dose del siero moderna a cui la donna si era sottoposta lo scorso giovedì nel centro vaccinale di Montevarchi. Gli esiti degli accertamenti sanitari saranno resi noti tra 60 giorni. Presente ieri anche il medico legale incaricato dalla famiglia di supervisionare e seguire gli accertamenti. La famiglia di Valentina, che risiede a Montevarchi, attende adesso il nulla osta per i funerali.